Allora, grazie. Il tema che tratterò è euro sì e euro no, se effettivamente ci conviene uscire dall'euro. Allora, partiamo dall'inizio. Perché esiste l'euro? Perché abbiamo fatto questo errore? Perché è evidente, bisogna sempre distinguere quando parliamo di questo argomento. Un conto è dire che è sbagliato uscire dall'euro, che è costoso uscire dall'euro, che sarebbe un disastro uscire dall'euro. Un conto è dire che l'euro, per come è stato fatto, è una buona cosa. L'euro ha enormi disfunzionalità. Avremmo fatto bene a non farlo o almeno a non entrarci. Ma una volta che ci siamo entrati, dobbiamo chiederci quali sono i costi dell'uscita, eventualmente. Perché abbiamo fatto l'euro? In realtà l'euro è parte di un percorso, di un movimento quasi mondiale, che parte dalla fine degli accordi di Bretton Woods. Quando inizia il percorso di liberalizzazione della finanza. Quindi liberalizzazione dei movimenti di capitali, la creazione del mercato valutario Forex, cioè un mercato privato in cui si scambiano le valute che prima non esisteva. La deregolamentazione bancaria, quindi l'abolizione del Glass Stigal Act, eccetera, eccetera. Privatizzazioni, privatizzazioni di banche, privatizzazioni di ferrovie, eccetera, eccetera. E il dogma dell'indipendenza della banca centrale. Questi sono stati, diciamo, dal punto di vista soprattutto finanziario, i passaggi fondamentali che dal 1971, quando crolla il sistema di Bretton Woods che fu voluto, tra gli altri, da John Maynard Keynes, fino ad oggi, insomma, abbiamo vissuto. In questo nuovo mondo diventa quindi fondamentale attrarre i capitali, soprattutto per quei paesi, per i paesi in via di sviluppo, prima di tutto, ma anche per paesi come il nostro, che sono definiti paesi ritardatari, a sviluppo ritardato. Noi non siamo come la Germania, non siamo come la Francia, come l'Inghilterra, eccetera, siamo uno scalino più sotto. Allora, cosa fanno questi paesi per attrarre i capitali? Si indebitano in valuta estera, oppure si indebitano spesso anche, addirittura, sotto diritto estero, cioè non solo emettono bond, qui non parlo solo di debito pubblico, attenzione, parlo anche di debito privato, quindi di aziende che si indebitano sui mercati esteri, indicizzano i rendimenti dei titoli di Stato all'inflazione o al tasso di cambio, oppure fissano direttamente il cambio. E l'euro è stato uno, il percorso finale di una serie di accordi di cambio. Prima c'era il serpente monetario, in Europa poi c'è stato lo SME e poi alla fine c'è stato l'euro. L'euro è qualcosa però di, vedremo anche, molto diverso da un semplice accordo di cambio, perché è una moneta unica. E in alcuni paesi addirittura abbiamo assistito all'utilizzo di valuta estera, cioè per esempio in Islanda, il problema che nacque nel 2008, quando ci fu il crollo della bolla finanziaria, fu il fatto che quasi tutti in Islanda facevano i mutui in valuta estera e le banche islandesi davano alla clientela europea, inglese, danese, olandese, eccetera, conti correnti con alti rendimenti in euro o in sterline, eccetera. Quindi prendevano i soldi dall'estero e li prestavano ai loro cittadini. Quindi qual è il motivo per cui si fanno queste cose? Qual è? Quindi si è fatto anche l'euro. L'eliminazione del rischio di cambio, perché questo attrae i capitali, perché l'investitore non ha paura che la valuta del paese in cui investe si possa svalutare, e quindi l'euro ha indotto i mercati, essendo poi, ripeto, non solo un accordo di tasso di cambio ma una moneta unica, addirittura fino a far credere ai mercati che la Grecia fosse credibile come la Germania, cioè i tassi di interesse sui titoli di Stato greci erano appena appena, proprio di qualche decimo di punto, superiori ai tassi di interesse sui titoli di Stato tedeschi. Quindi i mercati vuol dire che valutavano la capacità di rimborso della Grecia quasi esattamente come quella della Germania, della Francia o dell'Italia. Come nasce la crisi dell'eurozona? Su questo si fa, spesso c'è una narrativa sbagliata e forviante. La crisi dell'eurozona non nasce nell'eurozona, cioè la crisi dell'eurozona nasce negli Stati Uniti, nel senso che la bolla scoppia negli Stati Uniti. Il contagio globale porta al scoppio delle bolle nelle periferie, non solo nelle periferie ma soprattutto nelle periferie dell'euro, dell'Unione Europea dell'euro. Nel 2009 gli Stati salvano le banche e quindi il debito privato, cioè il debito delle banche, e quindi anche il debito estero, perché le banche spagnole per esempio ricevevano prestiti dalle banche tedesche, diventa debito pubblico. Ciò che è successo anche negli Stati Uniti, attenzione, non è successo niente di diverso, non in Inghilterra, cioè sono state nazionalizzate, o comunque sono state salvate delle banche, che una non è stata salvata, solo una, Lehman Brothers, e ha creato il casino che abbiamo visto. Nel 2010 e 2011 i mercati si accorgono che i debiti dei governi dell'Unione Europea, aderenti all'euro, non sono garantiti da nessuno. Cioè non c'è come negli Stati Uniti o in Inghilterra dove c'è una banca centrale che a volte esplicitamente, a volte perlomeno implicitamente, di fatto è considerato il prestatore di ultima istanza, così si dice, dei governi. Quindi in governo si può anche arrivare il debito pubblico anche a 150, per esempio prendiamo il Giappone, è arrivato a 230, 250, non si capisce neanche quanto bene, eppure nessuno, i tassi di interesse sui titoli giapponesi sono zero, fondamentalmente. E a ciò si aggiunge che nel 2011, quindi questa serie, diciamo, di eventi, crea una crisi di fiducia. I prestiti interbancari si interrompono e i capitali incominciano a tornare dalle periferie verso il centro, al che uno dice, in una normale, diciamo, è uno schema abbastanza simile a quello di una crisi da bilancio dei pagamenti. In una normale crisi di bilancio dei pagamenti l'euro sarebbe scoppiato. Cioè se ci fossero state, come è successo per lo SME nel 1992, se ci fossero state le valute nazionali agganciate tra di loro, come era nello SME, quel sistema sarebbe morto. Invece l'euro non è solamente un accordo di tasso di cambio, è effettivamente una moneta unica. Quindi l'euro non è crollato perché c'è la BCE. La BCE ha uno dei pilastri fondamentali del funzionamento della BCE, è un sistema che si chiama Target 2, che ha permesso nei fatti di finanziare i deficit esteri dei paesi periferici dell'eurozona e quindi di impedire l'uscita di questi paesi dall'euro. Non rendere perlomeno necessaria l'uscita di questi paesi dall'euro. Quando però si è innescata la crisi dei debiti sovrani, lì è nato un nuovo problema. Cioè, appunto, quello che dicevo prima, non c'era un prestatore di ultima istanza. Allora, cosa ha fatto la BCE? Ha cercato di diventarlo. Anche se lo statuto della BCE, diciamo, è piuttosto rigido, però Draghi ha cercato di mettere qualche pezza e si è inventato ha fatto quella famosa dichiarazione a Londra guarda caso poi a Londra sul whatever it takes cioè lui dice faremo tutto ciò che è necessario per salvare l'euro e poi più recentemente ha avviato il quantity leasing e quindi ha abbassato i tassi di interesse del nostro paese e di altri paesi, eccetera. Quindi di fatto è diventato quasi un prestatore di ultime istanze. Quindi uno si chiede l'euro è destinato a crollare? No, non è automatico. Cioè non è come una crisi da bilancia dei pagamenti in cui a un certo punto un paese esaurisce le riserve di valuta estera e deve per forza svalutare. Quindi non ci sono riserve come è successo per esempio per lo SME. Noi uscimmo dallo SME perché non eravamo più in grado di mantenere l'aggancio monetario perché non avevamo i marchi da vendere non avevamo i franchi da vendere, eccetera perché noi non li stampiamo ovviamente né marchi né franchi. Nell'euro non c'è il franco il marco, la lira, eccetera quindi non ci sono riserve da mantenere, eccetera. Nonostante ciò però questo non vuol dire che tutto vada bene cioè che il sistema funzioni perché le divergenze stanno continuando ad accentuarsi ci sono paesi che crescono a ritmi più elevati e paesi che non crescono fondamentalmente come il nostro e le periferie dell'eurozona tendono a diventare diciamo più povere quindi a un processo che viene chiamato mezzogionificazione come la mezzogionificazione del nostro mezzogiorno viene proprio da questo è un termine che fu coniato da Krugman per descrivere una situazione in cui alcune parti di un'area valutaria progrediscono ed altre invece arretrano. Allora uno si domanda visto che funziona così male l'euro usciamo dall'euro il problema è abbastanza grosso perché io sono andato a prendere i dati uno studio presentato nel 2012 da degli economisti che si definiscono favorevoli all'uscita dall'euro e questi economisti che cosa dicono? Prima di tutto non sto parlando di gente della commissione europea o di papaveri della commissione no, sto parlando di gente che pure è molto critica verso l'euro ha una sua idea di come fare ad uscire dall'euro e poi dirò perché è piuttosto utopistica però dice il problema esiste i rischi di un'uscita solitaria sono molto elevati perché? Prima di tutto l'euro è la moneta di una delle più grandi aree economiche del mondo e non ci sono precedenti storici di rottura di una moneta di una grande area economica questo non so se si vede ecco l'euro area rappresenta circa il 20% del PIL mondiale tutte le rotture monetarie precedenti sono assolutamente imparagonabili in termini di grandezza economica e loro mettono in evidenza anche altri problemi anche più 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 importanti di questo poiché l'euro non è semplicemente un accordo di cambio fisso ma una moneta unica e l'integrazione finanziaria all'interno dell'eurozona è imparagonabile rispetto ai casi di altre rotture di accordi valutari i debiti e crediti sono denominati in euro il 30% delle obbligazioni nell'eurozona è sotto legge estera cioè le imprese italiane per esempio mettono obbligazioni sul mercato di Lussemburgo in Lussemburgo anche a Londra eccetera denominate in euro e quindi nel momento in cui noi dovessimo uscire dall'euro e svalutare queste imprese si troverebbero con alti debiti in valuta estera e quindi avrebbero mentre avrebbero in molti casi entrati in lire e quindi aumenterebbe la loro esposizione la difficoltà a pagare quindi alcune di queste potrebbero fallire dovrebbero essere salvate dallo Stato eccetera le banche sono quindi non solo le imprese ma anche le banche sono estremamente fragili estremamente esposte a un rischio di svalutazione tenete conto che è uscito qualche tempo fa uno studio di Mediobanca che è stato interpretato come un via libero cioè Mediobanca dice che possiamo uscire dall'euro in realtà lo studio di Mediobanca dice che se la svalutazione non c'è se non ci fosse svalutazione allora le cose andrebbero bene ma gli stessi gli stessi autori diciamo sono abbastanza scettici sulla possibilità che non ci possa essere svalutazione se ci fosse una svalutazione del 30-40% invece il rischio sarebbe diventerebbe piuttosto elevato poi ci sta un problema di cui si è parlato di che ha posto Draghi rispondendo a un'interrogazione di Zanni del Movimento 5 Stelle ha detto guardate prima parlavo vabbè ok vado avanti allora ho esposto un po' questi quelli che sono le criticità allora una passo direttamente allora alla parte propositiva così facciamo prima dice se i problemi di uscita dall'euro sono questi qui qual è la soluzione la soluzione una possibile soluzione è stata proposta da me e da Thomas Fazia è stata premiata dal FinTech del Partito Socialista Europeo che si chiama Progressive Economy e consiste in questo siccome il problema è appunto che il diciamo è quello degli spread fondamentalmente cioè in questo momento il nostro spread è a 200 mentre in teoria siccome non esiste un debito pubblico europeo la materia prima che crea l'euro sono i titoli di Stato cioè come fa la Banca Centrale Europea a creare l'euro compra un titolo di Stato da una banca e dà in cambio la riserve cioè da euro non stampati sono elettronici però sono sempre valuta legale allora qual è il problema se la Banca Centrale nel come dire se la materia prima che crea l'euro non è uguale cioè se quella che greca non è uguale a quella tedesca è chiaro che il deposito in una banca greca non è uguale a quello del deposito in una banca tedesca chiaramente quindi non esiste i mercati percepiscono come se ci fossero più euro c'è l'euro greco c'è l'euro tedesco c'è l'euro italiano ognuno dei quali è un po' più sicuro dell'altro o un po' più insicuro dell'altro allora il problema è unificare effettivamente l'unione monetaria e come si fa? Beh si fa facendo un whatever it takes al quadrato nel senso che Mario Draghi dovrebbe la banca centrale europea semplicemente dovrebbe dire questa semplice cosa dice da domani gli spread non potranno essere più alti di 30 punti base nel momento in cui succede questo se dovesse succedere questa cosa dovrebbe essere diciamo una pressione politica da fare nel momento in cui succede questo chiaramente gli spread i mercati stessi fanno abbassare gli spread perché nessuno si mette contro la banca centrale l'euro è salvo e a quel punto solo a quel punto lì si può incominciare a parlare delle cose che diceva Marcon cioè a quel punto si dice il fiscal compact no o almeno si danno diciamo si tolgono dal computo dei deficit gli investimenti e si dà più spazio insomma si dà più spazio fiscale agli stati però noi non possiamo fare questo allargamento di spazio fiscale agli stati finché noi non risolviamo il problema che i mercati pensano che alcuni stati siano più deboli di altri alcuni diciamo titoli non siano uguali agli altri e quindi scommetteranno sempre fin quando non ci sarà una dichiarazione ufficiale che l'euro non si disgregherà scommetteranno sempre sulla disgregazione dell'euro grazie 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 a tutti